Radio DJ Tra poco Catteland con Alessandro Catteland DJ Riavvolgi 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 Grazie a tutti. 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 Allora, io mai mi permetterei di dire a voi ascoltatori che ci date fastidio, che ci avete interrotto. Oggi però, prima di iniziare la puntata c'era un acceso dibattito qui in redazione, in studio, a microfoni spenti, che io avrei voluto proseguire. Purtroppo ci siamo dovuti interrompere perché avevamo questa incombenza della puntata che iniziava, c'è il giovedì Lemma, le vostre storie, quindi non potevamo farvi aspettare. Se volete iniziate a mandarli al 347-342-5220. Però io avrei voluto approfondire un attimo questo tema che si era creato. Avete presente quando con gli amici vi fate le domande quelle un po' assurde? Cioè, il classico preferiresti di più questa cosa qua o un'altra cosa più assurda? Si partiva dalla forma fisica, eh? Sì, sì, no, esatto. Parlando un po' delle nostre condizioni, delle nostre età, della nostra forma fisica in rapporto all'età che abbiamo, no? Stavamo un po' facendo la classifica di chi è conciato peggio, tra di noi. Tra di noi, così. E tutto immediatamente poi è degenerato in un. Sì, ma io con la tua vita non farei mai a cambio, no? Così. Allora, lasciando perdere me, che ho la vita chiaramente migliore di tutti voi, che sono in una condizione... Sai che non lo so, però, se non lo so, anche con la tua in generale. Chi farebbe a cambio con me? Allora, quello messo meglio fisicamente di tutti, quello che ha una condizione di salute fisica, così, è chiaramente... E mentale, scusami. E mentale, vabbè. E mentale è chiaramente Maurizio, tra di noi. È quello messo meglio. Ma chi farebbe a cambio con la vita? No, no, ma mai. Cioè, allora, Valtteri è in una condizione che oggi c'è, domani potrà... Esatto. Ma tu faresti cambio con la vita di... Però me la sto godendo la vita. Ma c'è! Live fast, live fast da young. Mi dicono, guarda, tu diventi Maurizio rossato e vivi sereno, senza un problema fino a cent'anni. Cent'anni in salute perfetta, ma con la vita di Maurizio... Ma mai. Ma come c'è? Come cosa mi fatti il tempo? Cosa che è reciproco, è reciproco. Come arrivo? La cosa è, ok, allora tu adesso hai 45. Sì. Ok, per arrivare a cento te ne mancano cinquantacinque. Ma se la mia vita deve diventare quella di Maurizio... Ma che cazzo faccio cinquantacinque anni? Sto lì, con colpa di scegio. Sto lì, sto lì, sto lì a poltrona a mangiare i cachi, a mangiare i dati. Ma poi hai idea di che ora si sveglia questo qua? No, no, infatti, a te ti ammazza quella roba. Sì, no, esatto. Walter fuma tutto il giorno. È vero. La poltrona vive ancora nella poltrona. No, Walter fa una vita che è veramente sregolatissima. Tu fai una vita sregolatissima. Non è stato un'etagerata. Ma no, ma mangi male, da gli orari scombinati. Fumi. Fumi. Ma sì, ma... Però, sinceramente, meglio un anno così o cinquantacinque. Un mercoledì. Ah, stasera, vedo... Esco... Ma in tv da... Oppure posso andare allo... No, niente. Ma sai che mi leggo un libro. Fino alle nove e mezza. Aumenta la tua spiritualità. Sì, allora, Fosca ha più o meno lo stesso punto di vista. Lei però l'ha buttata sui soldi. Cioè, Walter ha subito pensato, con cosa baratterei la mia vita? Con la salute e una vita lunga. Pensa al massimo della mia aspirazione. Fosca con i soldi, vuole 3.000 euro al mese. E la tredicesima. No, no, sonnetta. Se mi dicessero ti diamo 3.000 euro al mese netti. Netti. Puliti in busta. Sì. Con tredicesima e quattordicesima. Faresti la vita di Maurizio? Sì. Alessandro, questo ti fa capire che non c'è coscienza. No, non hanno coscienza. Non hanno coscienza e consapevole. Comunque, guarda che 3.000 euro al mese. Sai cosa basterebbe fare? Svegliarsi presto la mattina. Se tu ti svegliassi presto la mattina e andassi a lavorare presto. Cioè, ci puoi anche... Non è così impossibile arrivare. Io ho una domanda. Se tu invece dovresti scegliere una vita da comune mortale, faresti quella del nostro Maurizietto? Posso dire sì. Allora, Mauri... No, 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 no. Non sei la persona più falsa. No, te lo giuro. Per dirsi... Vieni qua, abbracciamoci, Mauri. Abbracciamoci. Vieni qua. Vieni qua. Perché ultimamente fate squadra. Io e Mauri ormai siamo un team. Mauri, per dirti quanto sei diventato il mio guru, l'altro giorno eravamo tutti un po' a ciaccatini, un paio di settimane fa eravamo tutti a ciaccatini così e abbiamo detto Mauri, ma te non t'ammali, ma com'è che te stai sempre bene e così. E Maurizio ci ha detto perché mangio i datteri e i cachi. Questa è la... Vero, Mauri? Ma tutto l'anno? E faccio pensieri positivi. Ma ci arriva davvero a cento. No, ma sicuro ci arriva a cento. Mauri, te lo giuro, su quello che vuoi, ieri i cachi non li ho mai mangiati in vita mia perché da piccolo mi sono convinto che facessero schifo, ok? E quindi non ero mai più rientrato nel tunnel dei cachi. Perché hanno una sostanza... Da quando mi hai detto quella roba lì? Ho detto, no, beh, io devo mangiare come Maurizio. Sono andato a comprarmi i cachi, ma buoni che sono. Eh sì? A parte che sono buonissimi. Ma adesso io spero di stare bene come te sempre. Certo che starei bene. Poi ti spendi 90 euro al freno. Vabbè, però se mangi i cachi compenserà. Adesso io non dico che campo cent'anni come Maurizio, ma 80 ci arriverò, no? Speriamo. E i datteri. Vabbè, comunque sia, per dirvi di che cosa stavamo delle minchiate che stavamo dicendo qui in radio prima di iniziare la puntata, che però, come sapete, è dedicata a voi. Noi speriamo di avervi strappato un sorriso, gettandovi in pasto pezzi delle nostre vite e delle nostre discussioni, ma adesso vogliamo sapere le cose che avete da dire voi al 347-342-5220 oppure diretta a chioccioladj.it, che è il nostro... E i loro segreti di lunga vita, no? Del pubblico? Ah, beh, sì, certo. Se avete degli elisir di gioventù, cioè, modi per star bene, che non siano noiosi come la vita di Maurizio, cioè, che non ti obblighino, ovviamente, a vivere come... Maurizio vive un po' in una... Non riesce a capire come mai invece tutto il mondo sia in giro a fare cose... Fosca dice, no, a me prima delle nove mi dovete lasciare stare perché la vita sennò... Oh, ma da quando andavo a scuola son così, eh? Certo! 347-342-5220, anche per insultarci liberamente per le stupidate che abbiamo detto, andate tranquilli. Iniziamo con Anna Lisa, bellissima, su Radio DJ. Insieme, solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose che stesso fa, mi sto impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio, però tu mi piaci, oh, 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 ho fatto i salti mortali. Oh, 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 non mi dire che è tardi. Ah, 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 avevo voglia di, oh, voglia di, voglia di... Dove vai? Te ne vai? Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Dove vai? Ma che cosa vuoi? Quella volta che fruttavo in Saint Laurent, ero bellissima, bellissima. Mettiamo un po' di musica da ginnastica, è tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino dell'Adidas. E poi volevo dirti che non ci dormo più. Madonna, se mi manchi, sì, chiamatemi un medico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio, però tu mi piaci, oh, 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 ho fatto i salti mortali. Oh, 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 non mi dire che è tardi. Oh, 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 avevo voglia di, oh, voglia di, voglia di... Dove vai? Te ne vai? Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Dove vai? Ma che cosa vuoi? Quella volta ti aiutavo in Saint Laurent, ero bellissima, 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 bellissima. Avevo voglia di... 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 Avevo voglia di, voglia di, voglia di... Dove vai? Te ne vai? Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Avevo voglia di... Avevo voglia di... Avevo voglia di... Avevo voglia di... Quella volta ti aiutavo in Saint Laurent, ero bellissima, bellissima, bellissima. Durante questa canzone, bellissima, di Annalisa, bellissima, si è aperta un'altra discussione fra Caco e Caco Mela. Cos'è il Caco Mela? Cioè, l'ho ovviamente sentito nominare, ma non mangiando i cachi, non ho mai neanche mangiato il cachi. Caco Mela. Adesso al Caco ci sono, il Caco Mela è? Ma quello è un po' più duro. Perché è un po' imbastardito con la mela? O è solo la durezza che rievoca la mela? Non so se è imbastardito con la mela, però sì... È un po' più duro. Perché a te ti fa schifo quella pappettina lì? Eh, ma invece devi superarla questa cosa. Sì, sì. Tante cose che devi superare. Sai che dicono che quelli che hanno dei problemi con le cose comunque un po'... Molli. Molli, così, non sanno fare l'amore. Eh, scherano. Non solo. Un'università del Michigan ha stabilito... Teorie completamente... Non ha minimamente senso. Monica, l'avevi sentita dire sta cosa? No, sinceramente no. No, e guarda che ci sono degli studi dell'università del Massachusetts che hanno stabilito... Ti ha problemi con le cose un po' mollicce, un po' le vongole. Monica, scusaci, oggi non so cosa ci sia successo. Siamo più stupidi del solito. Come stai, Monica? Tutto bene? Bene, con un po' di mal di schiena. Orca miseria! Come mai? Eh, indovina perché? E che ne so, non tu ti conosci. Abbiamo fatto il cambio gomme. Ah, avete fatto il cambio gomme. Tu e? Eh sì. E mia suocera. Tu e tua suocera? Che quadretto bizzarro. Vai, spiegami un po' bene tutto. Allora, io sono sposata a 22 anni. Sì? Eh, praticamente mio marito è di Milano. Mia suocera è rimasta a Milano, ma io sono di Bergamo e quindi mio marito si è trasferito a Bergamo. Ok. Eh, nove anni fa è venuto a mancare mio suocero e il, diciamo, il primo cambio gomme che mia suocera ha dovuto fare è da sola. Nella sua vita, sì. E quando è mancato suo marito? Esatto. Ha fatto un incidente, non per colpa sua, e il figlio preoccupatissimo ha detto no, 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 allora abbiamo il garage grande, le ruote le lasci da noi e vieni da noi a fare il cambio gomme. Perchè, 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 scusi. L'incidente cosa c'entra? Eh, perché ha fatto un brutto frontale, è stata comunque molto spaventata, lei non è proprio così avversa a guidare e quindi è andata un po' in panico. Lui, peggio di lei. Sì? E quindi ha scelto che... Ma il motivo dell'incidente erano le gomme non giuste? No, 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 no. Era l'altra persona che... È semplicemente che avendo a che fare con la macchina, lei tutto quello che riguarda la macchina, adesso la mandate in sbattimento. Sì, esatto. È quella roba lì, ok. È una condizione psicologica, un po' di paura per tutto quello che concerne la macchina, ok. Sì, è anche un po' impedita, purtroppo. Eh, va bene, sì. E niente, quindi il figlio l'ha convinta a depositare le ruote presso il nostro garage e quindi venire a Bergamo per fare il cambio gomme. Ok, una carineria da parte del figlio che ha detto, vabbè, il cambio gomme viello a fare qua. Ok, perfetto. Peccato che quando c'è l'appuntamento col gommista lui non c'è mai. Ok. E quindi tocca a me aiutarla, e praticamente faccio tutto io, caricare e scaricare le gomme. Per di più, le gomme non solo all'opneumatico, ma anche doppio treno di cerchione. Intanto scusa, brava, perché hai detto l'opneumatico. Brava, 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 bravissima. Mi ha dato un fastidio che mi veniva voglia di buttarmi giù, ma hai ragione tu. Quindi questa è una mia battaglia proprio di sempre. Ok, quindi, la questione qual è? Che non c'hai più voglia di caricare le gomme sulla macchina. Perché poi il lavoro lo fa il gommista, no? Il lavoro poi lo fa il gommista, non è che lo fate tu e tua suocera. Ok, però caricare le gomme così... Poi giù dalla macchina ci devo pensare io e piazzarle in garage ci devo pensare io. Però scusami, non riuscite a... Secondo me stiamo un po' esaurendo i problemi seri e stiamo arrivando... No, non puoi organizzarti con tuo marito? Ok, senti che... Fai caricare a lui, se tu sai che oggi non c'è, oggi dovete fare il cambio gomme, gli dici, senti, ieri, mi carichi intanto le gomme in macchina, così poi quando arriva io porto semplicemente la macchina dal gommista, mia suocera mi seguirà con la sua macchina, quando arriviamo lì il gommista fa il suo lavoro, tira giù le ruote e le mette. Allora, peccato che se io che devo prendere l'appuntamento col gommista è peccato che mio marito ha un lavoro che lo porta anche a rimanere fuori di notte. Quindi non posso pensare a farglielo fare il giorno prima perché spesso lui è proprio via dal lunedì al venerdì. Aspetta, provo a dirti questa roba qua che magari vi... dirglielo due giorni prima? È uguale, perché lui purtroppo non sa mai con largo anticipo dove sarà. Allora, ti butto in una pazzia, una pazzia, una pazzia. Tre giorni prima? È uguale. No, il discorso è... Scusami. Non c'è a Milano un gommista che gli porta a tenere le gomme. Aspetta, aspetta, allora... Guarda, giuro, mi sto prendendo questa roba veramente a cuore, la voglio risolvere, adesso piuttosto mi faccio esplodere il cervello. Provo a darti un'altra alternativa che cambia un po' la strada e la prospettiva. Quattro giorni prima? Pacco. No, non lo so, poi magari... Oh, chiamatemi matto, non lo so, probabilmente sono io, però, no? Cioè, nel momento in cui tu prendi l'appuntamento col gommista, che potrebbe essere una settimana, 15 giorni prima anche, dici, guarda, io vengo a cambiarle il... non so, il 30 di novembre. Ok? Ok. Nel momento in cui prenoti, quindi addirittura... Io mi vergogno, io spero che questa puntata veramente non capiti nelle orecchie sbagliate. 15 giorni prima. 15 giorni prima, tu dici a tuo marito, mi carichi le gomme lì dentro, che fra 15 giorni... Non devo caricarle nella mia macchina, devo caricarle in quella di mia suocera, che vorrebbe dire che mi terrà in casa mia suocera per 15 giorni. Anche no, grazie. Ma scusami, ma perché tua suocera si muove con le gomme? Se tu hai le gomme... Se tu tieni le gomme in macchina, ti devi tenere con il tuo suocera. Tu fai caricare le gomme, se tanto le gomme sono a casa tua, fai caricare le gomme in macchina. Poi il giorno che dovete andare a far cambiare, tua suocera va direttamente dal gommista con la macchina con le gomme vecchie, tu con la tua macchina con le gomme caricate da 15 giorni prima, ti fai trovare lì e santa la madonna cambiate queste gomme, o no? Allora, prossimo ci provo. Ci provo perché non sei sicura di aver capito lo schema, diciamo. Tu fai caricare le gomme nella macchina, poi il giorno che sarà lo porti lì, cioè lo vedrai tuo marito una volta in 15 giorni? Più o meno. Mi sembra che tu non abbia voglia di risolvere il problema, mi sembra che tu non abbia voglia. Io preferirei che lei trovasse un gommista che le terrebbe poi anche le gomme. Che le tenesse, sì. Sì, no, lo so. No, no, lo so. Anche Fosca preferirebbe svegliarsi alle 10.15 la mattina, però poi il mondo poi va in un'altra direzione. Bisogna anche un po' scendere a patti con la vita. Monica, ti mandiamo un bacione grande e facci sapere, perché di tutti i giovedilemmi questo è quello che mi appassiona di più. Oh, la richiamiamo per il giovedilemmo e poi. Verso fine anno, per l'ultima puntata, vogliamo sapere come è andata con queste gomme. Va bene? Ormai questa volta l'ho già fatto il cambio, sarà primavera. L'anno prossimo. E tu metti già le gomme in macchina adesso. Per la primavera prossima. Ciao Monica. Ciao, 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 ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 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 But you look at me I'm a lover Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'm a goddess Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501